Ragazzi, non ce l'abbiamo fatta ed è una beffa, tra l'altro aspettate che sistemo qua la telecamera è una beffa perché noi ribaltiamo la partita, a St. James Park vinciamo, segna Ciuqueze il gol partita e Pulisic aveva pareggiato i conti dopo il gran gol di Joe Ellington tutto diciamo per una singola partita perché se noi avessimo fatto il nostro dovere nella prima partita contro il Newcastle a San Siro dove strameritavamo di vincere definita 0-0 e l'emblema è quel tacco sul terreno di Leao che non mi scorderò mai, non me lo toglierò mai dalla testa oggi non faccio lo sfogo, non urlo, però ho urlato già abbastanza dalla live reaction domani la vedrete, però mettete tanti tanti mi piace a questo video e ve la pubblico il prima possibile andiamo in Europa League e io mi domando, ma il Milan vuole giocarla all'Europa League? avrà la mentalità di dire ok siamo in Europa League però ci proviamo ad andare il più avanti possibile o decideremo proprio di fregarcene, di sbatterci il cazzo, scusate il francesismo ma è dovuto oggi e usciremo il prima possibile anche dall'Europa League per pensare al campionato? non lo so, l'Europa League non è che mi faccia schifo, ce la siamo meritata l'Europa League fino all'ultimo potevamo anche uscire direttamente da tutto se non era proprio il gol di Ciukweze e se non avessimo buttato noi dei punti veramente in modo osceno perché ragazzi non mi venite a dire che questo girone non era fattibile sulla carta sembrava il girone di ferro di questa Champions League ma poi per come si sono messe le cose con il fatto che noi avremmo dovuto vincere a San Siro contro Newcastle meritavamo qualcosina anche con il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park perché secondo me meritavamo, potevamo vincere anche lì e abbiamo pareggiato poi abbiamo perso male al Parc des Princes col Paris Saint Germain dove non abbiamo giocato proprio ragazzi là e là potevamo comunque giocare bene avevano creato un sacco, ok, ma avevano lasciato dei buchi chilometrici che noi non abbiamo mai sfruttato mai cinici, mai in questa Champions League chiudiamo con otto punti a pari merito col Paris Saint Germain che però per la differenza reti e per lo scontro diretto a favore e quindi alla fine solo per la differenza reti perché una volta la perdiamo, una volta vinciamo per la differenza reti vanno loro avanti e noi no, e noi no perché siamo dei cazzo di polli poi arriva la partita della svolta la quarta giornata battiamo il Paris Saint Germain a San Siro e poi però a San Siro giochiamo veramente male il rigore di giro sbagliato ci condiziona e non è una cosa bella da dire in una squadra come il Milan che un errore ti condiziona perché tu devi avere la testa nonostante tutto quello che può succedere di andare e vincere e invece no e invece no ragazzi ora io su questa patch non ho le sette Champions ma noi abbiamo sette Champions League non possiamo affrontare così con questa mentalità questa competizione e giustamente non andiamo agli ottavi quindi sì probabilmente lunedì porterò un video per i sorteggi ma il Milan non ci sarà sull'urna di Nyon dovremmo vedere sull'urna per l'Europa League vedremo poi contro chi io sono molto molto deluso perché poi oggi segnano loro e nel primo tempo noi non facciamo niente nel secondo tempo riusciamo a pareggiare ma dopo che siamo riusciti a pareggiare ci hanno messo ancora in difficoltà per poi trovare un palo che veramente io non capisco Leo com'è possibile che lì non l'hai buttata dentro grazie a Dio segna Ciocqueze quindi grazie al gol di Ciocqueze andiamo in Europa League Newcastle ultimo Borussia Dortmund giustamente primo ditemi la vostra nei commenti io sono molto molto deluso e non urlo solo perché abbiamo vinto anche se è una beffa così e anche se è una beffa così